Mi chiamo Carlo, faccio il volontario in un canile, perché dagli animali si impara tantissimo e poi mi diverto. Mi chiamo Bea e sono una volontaria. Mi occupo della tutea dell'ambiente, perché la salvaguardia del pianeta riguarda ognuno di noi. Sono Milena e mi occupo di informare e sensibilizzare sulla donazione di organi, perché donare significa salvare molte vite. Mi chiamo Stefano, ingegno italiano ai migranti, perché la comunicazione aiuta l'integrazione. Mi chiamo Marina, sono una donatrice di sangue, lo faccio perché è utile. Mi chiamo Ezio, sono un volontario medico, lo faccio perché la salute non è una merce. Mi chiamo Domenico e faccio l'avvocato di strada. Se ci stai pensando, diventa anche tu un volontario. Domenico e faccio l'avvocato di strada.